Che mi ha portato in omaggio un nuovo iMac Vediamo un po' che modello è Ah, il 24 pollici Ma non dovevi metterti in cermolo Lo so quella pollice che dici come Quell'altro Simone ti ha fatto il regalo, io no Non volevo essere da meno Allora mi sono messo quasi alla pari Grazie Simone, sei un amico Apriamo, va Ecco il magico strumento Vediamo se sei pratico di taglierini Penso di sì Visto il mestiere Ah, sei proprio tagliato E' l'emozione, è la prima volta Non ti preoccupare Guardatelo signori Quest'uomo emozionato Guardatelo Eccoci qui allo spogliarello Guardate Simone com'è citato Che deve spogliarlo Eccolo qui Grande Blackwise Grand C'era E voilà signori Grandeur de Dios Simo come ti senti Che sei passato a Intel Eh, non so Però purtroppo Dovevo andare avanti Esatto Nella vita Questa è la naturale evoluzione Ho in evoluzione Ho in evoluzione La tastiera Alluminizzatissima Vedete In soli 3 mm di spessore Un concentrato di tecnologia mondiale Pronti alla prima accensione Ragazzi un po' di silenzio Che qua Ecco qui Pronti Un tasto sembrerà Eh, ora vediamo Non trovo Eh L'accendo io mi dispiace Ma non te lo vedo Wow E tra te perché si sta rompendo Eh Troppo Signori guardate Questa è la prima accensione Del nuovissimo iMac Pixelbed Pixelbed in giusto Eh, avremmo un po' nir L'ho trovendo Ecco Ti faccio C'è un po' di giusto 3 No, meglio 4 No, no Meglio 3 Così non te lo cambia Oh, grande Non è No, non è È polvere È polvere È polvere È sapori Signori È un momento emozionante Il nostro Simone Oramai È agli sgoccioli Perché non parte Guardate quello di sopra Come guarda Ah, selezioniamo un linguaggio Quello di sopra Guarda come dire Come dire Ma chi sei tu? Ci conosciamo? È per i non vedenti Vedo lo scardato Scardel glass È a plastica È a plastica E questo te lo devi tenere, caro Signori Signori La sfiga ha colpito Ecco qua Lo scardel glass Vedete? Però avremo questo filmato Come restimonianza Che è uscito Già scardato Attenzione Eh, non è poco Eh, non è poco Cara Apple Il vetro era già rotto Passatevi la mano per la coscienza Insieme a Leopard Sostituite anche le Mac Del caro Simone Trasferisci le mie informazioni Siamo degli anni 30 Solo i meccanici sono capaci di fare questo Grazie 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 Grazie